Ciao a tutti, oggi a richiesta facciamo un'analisi di Gilmo. Guardando i bilanci vediamo una società con fatturati in crescita, così come i profitti lordi, ma debiti correnti a lungo termine, anch'essi in crescita. Utili netti non coerenti e non costanti, e già solo per questo non mi va molto a genio questa azienda. Inserendo altri dati qui, nella lavorazione calcoli, scopriamo che il prezzo per quello che offre non sarebbe poi così male, ma sappiamo che in una società non bisogna solo guardare il prezzo. Ci sono tanti altri valori, tipo margini, spese, debiti, rendimenti e altri parametri, che se hai acquistato il mio indicatore sai esattamente quali sono, che se non vengono rispettati non c'è comunque da fidarsi. Di conseguenza non consiglio di acquistare ora come ora questa società. Ora come al solito se vuoi il mio indicatore ti lascio il link in descrizione, ti ricordo che questa analisi è un'opinione mia personale. Se vuoi che venga analizzata un'azienda devi prima condividere questo video e mettere il like al video e alla pagina, dopodiché puoi scrivermi direttamente nei commenti l'azienda su cui vuoi che ti dia il mio parere. Ti saluto e ti auguro tanti buoni investimenti. Ciao!